sono da poco le 16 e si sente un rumore di acqua guardate che meraviglia esteticamente non è il massimo ma l'acqua che esce da quel tubo azzurro è meravigliosa ed è più buona di quella del video precedente dove ci trovavamo vicino al laghetto vicino al lago della lacina questa altre proprietà è meno diuretica ma è più salutare perché ha tanto calcio ci troviamo sulla strada che dal lago della lacina porta a sant'andrea dello ionio abbiamo sorpassato il parco eolico di san sostene siamo anzi diciamo nei meandri siamo vicini guardate che meraviglia di acqua e ne arriva tantissima anche in estate e poi risalendo 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 capiamo da dove arriva da lassù un saluto a tutti da ggj da questo meraviglioso bosco di faggi e perché la natura nelle serre così si frastaglia tra pini abeti abeti bianchi castagni guardate che meraviglia guardate anzi adesso vi voglio far leggere una frase che hanno scritto su questo guarda rail bello della diretta anche questo siccome c'è una fontana vicino hanno scritto qui se sporcate chiudiamo come a dire ragazzi qua venite bevete vi godete il panorama fate anche un meraviglioso picnic però non sporcate adesso andremo alla ricerca di impronte di lupo sempre qui dato che ce l'hanno segnalate in questi giorni grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.